Si avvicinano a periodi di caldo a foso, la preoccupazione maggiore è quella per gli anziani, per loro cosa farà questo è stato il comune di Foggia? Agli anziani noi diamo sempre i servizi che diamo, non ci sentiamo di togliere proprio niente, proprio perché ci sono degli anziani che rimangono soli, ci sentiamo di continuare a dare loro quell'aiuto quotidiano minimo, quale può essere il fatto di ricevere un pasto pronto, o comunque di dare loro per esempio la possibilità di fare una settimana al mare per cercare di agliettare un pochettino la loro esistenza e viene dedicato tutto questo a gente che ha veramente bisogno. I tagli e il salvacittà non hanno inciso dunque sull'erogazione di questi servizi? No, si è fatto l'indisponsabile per cercare di non fare incidere su questi servizi, proprio perché abbiamo ritenuto l'amministrazione tutta, il sindaco in primis ha ritenuto di non togliere niente per questi servizi, perché riteniamo giusto che continuino ad essere, visto che sono dedicate alle fasce più deboli, quali possono essere gli anziani.